Uno schianto potentissimo che ha fatto sbalzare il motociclista prima sull'asfalto e poi sul campo lungo la carreggiata. Grave incidente a Baone lungo la strada provinciale 89 che collega la frazione di Riva Dolmo con Cinto e Uganeo. Un 23enne in sella ad una moto proveniente da Este si è schiantato contro un'auto che arrivava dal senso opposto di marcia. Nell'impatto violento il giovane che risiede a Sant'Urbano ha perso un braccio ed una gamba che sono stati tranciati di netto. Sul posto è arrivata la polizia locale di Este che ora sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale. Il 23enne Centaur è stato portato in alli soccorso all'ospedale di Padova. Le sue condizioni sono molto gravi, illeso ma sotto sciocco il conducente dell'auto che si è scontrato contro la moto.